Il regionale credo e spero possa portare certamente un nuovo impulso, Catania Futura in questo senso è ovviamente dallo stesso nome parte integrante e fondatrice di Sicilia Futura e contiamo di poter dare un ulteriore impulso all'amministrazione cittadina in un contesto che certamente guarderà prioritariamente i problemi risolti, parlo dell'intrenditore che ci sono in gran parte del nostro territorio. E' probabile che si possa andare a votare da qualche parte, l'impegno di Nico Torrisi, qualora ci fosse? Il mio impegno oggi è quello di sempre, quindi faccio l'imprenditore e rappresento una categoria in politica ancora non ho avuto un ruolo attivo ma certamente avere fatto l'assessore non può far nascondere il fatto che si abbia avuto un ruolo importante se capiterà e qualcuno mi convincerà del fatto che si possa fare una cosa seria la valuterò con interesse. Anche nella tua città? Lo valuteremo, ad oggi non c'è nulla, vedremo.